Sono titolare di questa azienda che voi vedete, azienda agricola Ardito Felice, è un'azienda di circa 30 ettari, dove ci sono più di 10.000 piante di olivo, tutta monocultiva ercoratina, in agro di Andria, ai piedi del Castel del Monte, stiamo ad un'altitudine di 240 metri. Da anni per la gestione della nutrizione abbiamo scelto delle strategie Biolkin, che abbiamo avuto dei risultati eccellenti. Anche quest'anno abbiamo una produzione, come gli altri anni, abbondante, senza avere l'annata di carica e l'annata di scarica. È una buona resa in olio. Per l'olivicoltura biologica Biolkin propone come concimazione di fondo, organo minerali ammessi in bio. Nella nutrizione fogliare dell'olivo iniziamo dal mese di febbraio, l'epoca in cui avviene la differenziazione delle gemme. In questo caso, in questo momento, impieghiamo Folicis, che è un biostimolante a base principalmente di glicimbetaina e acido folico con estratto di alghi, e Nutrigemma, che è a base di boro e zinco. supporta e favorisce la differenziazione delle gemme a fiore. Il momento della fioritura è un momento delicato per la pianta, perché si possono verificare condizioni atmosferiche ambientali che ne pregiudicano la buona riuscita. Per cui Biolkin propone Folicis, che ha un effetto antistress. Uniforma la fioritura e migliora la legagione. Sempre in agricoltura biologica, per favorire l'ingrossamento delle drupe e supportare lo sviluppo vegetativo delle piante, nel mese di giugno impieghiamo Fillotone e Microfold Combi Bio. Fillotone è un biopromotore a base di amminoacidi vegetali che sostiene l'ingrossamento frutto e migliora lo sviluppo vegetativo delle piante. Biolkin ha delle adeguate strategie nutrizionali, sia messe in biologico che in integrato, per ottenere produzioni abbondanti, regolari e costanti delle colture frutticole. Per me è avere un prodotto d'eccellenza con una bassissima acidità nell'olio, dei polifenoli che sono molto molto alti, soprattutto la monocoltivar coratina ha la sua già caratteristica, poi usando dei prodotti bio, biolkin e poi facendo una curata molitura si raggiungono dei risultati di un olio eccellente biologico.